Buonanotte, c'è Marzia, Stefano. Un Oscar viaggio per una tappo che è richiesta. Sto riscettando dalla Torino, non ha detto la chiave, deve prendere la sensazione e non vuole. Federico, sto riscettando dalla Torino, non ho la chiave, devo prendere la sensazione. Sto riscettando dalla Torino, non ho la chiave. Sto riscettando dalla Torino, non ho la chiave. Sto riscettando dalla Torino, non ho la chiave. Sì Manceoni, senti. Francesco Francesco Nessunti Sì, senti. Sì, senti a alto. Niente. Va bene? Ovvio che ti mandi? Sì, senti Sì, senti. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS 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 e revisione a cura di QTSS